Sono qui perché? Perché adesso è arrivato il momento del talent, vero maestro? Adesso tocca a te, non tocca a me, non tocca a maestro Alma, ma tocca bensì a lei. Una ragazzina di 12 anni, ma bravissima. Eleonora Russo, venga! Ma che bello, mi fa anche l'ingresso, come una star. Buongiorno Eleonora, lei quanti anni ha? 12. 12 anni, lei dove studia? All'Union Dance. All'Union Dance and Music School di Anna Pisco, con chi studia? Con Ciro Alma? No, con Anna De Giacomo. Con Anna De Giacomo, che salutiamo. Che cosa canta quest'oggi? Distratto di Francesca Michelin. Distratta di Francesca... Distratto. Ah, io sono distratto? No. Lei è distratta? Io sono distratto perché non ho sentito che era distratto e non distratto, giusto? Si trova? Qual è il gioco di parole? Distratto o distratta? Distratto. Chi? La canzone. La canzone è distratta? Il protagonista è distratto? Ah, sto mandando in confusione, ci sono riuscite. Stai tranquilla, andrà benissimo, stai tranquilla. Allora, ascoltiamo la voce di Eleonora Russo in distratto, distratta, distratti, tutti quanti noi distratti. Un'ora, un giorno o poco più, per quanto ancora ci sarai tu, A volermi male di un male che fa su male, ma non ho perso l'onestà. E non posso dirti che passerà tenerti stretto quando è in fondo, sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo, che se ne accorge non sei tu, tu sei troppo distratto. Un'ora, un giorno o poco più, dicevi sempre per sempre, sempre ora, guarda cosa è rimasto adesso, che niente è lo stesso. Se non fa rumore l'anima, e quando sei qui davanti non si illumina, e perché non ne sento più il calore, non ne vedo il colore. E non vedi che sto piangendo, che se ne accorge non sei tu, tu sei sempre distratto. E non vedi che sto piangendo, e non mi guardi già più, potrò fare distratto. E non mi perdere, e non mi perdere, e non mi illuderai, e non mi sarà mai più. Un'ora, un giorno o poco più, per quanto ancora ti crederò Solo è perso e più confuso, non avresti voluto Vedermi scivolare via, fuori dalle tue maniche e fantasia Fuori dalla tua vita ma mi hai preso, soltanto un giro Ora vedi che sto ridendo, non mi guardi già più Non sei sempre distratto Ora vedi che sto fingendo, non mi guardi già più Non sei troppo distratto Tra l'acqua di lei Non mi rivedrai più E non mi ferirai, non mi illuderai E non sarà mai più Per un ora e un giorno, forse un po' di più, non girava il mondo se non c'ero tu E non volermi male adesso, se non ti riconosco Ma complimenti, ma che brava che è stata Venga, venga, venga con me Sì, brava Eleonora, lei è stata particolarmente brava E per la voce, per come ha cantato Ma anche brava, perché nonostante la sua giovanissima età Sapeva anche capire qual era la telecamera da seguire Guardava belle in camera, eh Brava Penso un po', Maria Silvia Marvone Da tanti mesi alla conduzione di studio mattina insieme a me Manco l'ha capito Capisce la differenza? È proprio una questione di cervello Brava, brava, brava Allora, se vi è piaciuta l'esibizione della nostra piccola Eleonora Russo Ricordate, i 12 anni, basta cliccare mi piace sulla nostra fanpage Lei resta qui con me? Sì Vuole fare la conduttrice? Sì Lei può prendere il posto di Maria Silvia Marvone È contenta? Che la mattina va a scuola lei? Sì No, resti qui con me Resti qui con me, non si preoccupi Tanto oggi comunque è saltata Facciamo i quiz insieme, va bene? Allora invitiamo i nostri amici da casa a iniziare a prenotarsi allo 081410077 Adesso c'è un pizzico di pubblicità E il studio dopo giocheremo con il nostro quiz Restate con noi Restate con noi